Buonasera a tutti! Altri Colossi dell'epoca, pronti a divertirci con una band straordinaria, una band che davvero è pronta a emozionarci. La traduzione del titolo, la genesi praticamente, del nome è questa, vuol dire Distillatori Clandestini in America. E beh, la cosa importante di una distinazione è poi l'essenza, e qui abbiamo l'essenza del rock, abbiamo il ritmo, la carica, il divertimento. Sono loro pronti alla 24 ore di finale, sono i Moonshiners! Grazie! 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 Grazie!